Nel senso che comunque col fatto che si stanno rialzando tantissimi contagi tutte le misure di contenimento secondo me sono necessarie, tutto sta in quello che la gente è disposta a fare. Dipende un pochino dalla propria coscienza, se comunque si vogliono riunire in tantissimi quanto meno avere la decenza di farsi il tampone per sapere se effettivamente uno è contagiato oppure no. È utile indossarla, soprattutto all'aperto in questi giorni dove c'è tanta affluenza sia di persone nelle vie del centro, è importante proteggersi e anche proteggere gli altri. Quest'anno rimarremo a Roma e vediamo un po', cerchiamo di proteggerci tutti controllandoci con un tampone. È noto e risaputo, credo che sia una dalle tante cose di cui dobbiamo essere convinti tutti quanti che sono tutte modalità che ci portano verso una maggiore sicurezza. Da questo punto di vista la mascherina è una delle cose che dobbiamo mettere in alto su qui. All'aperto, al chiuso anche quelle altre, ad esempio questa qua. Con tanta gente l'avremmo dovuto portarla, l'avremmo portata quindi. Certo, forse queste transenne no, perché alla fine la piazza è grande e la gente che passa può dividersi meglio. Vabbè, sicuramente per diminuire i contagi va comunque bene. Niente, se è questo l'obbligo noi dobbiamo rispettarlo. Cioè, nelle città più affolari sicuramente un senso c'è, comunque ci sono molti gruppi di persone, quindi... Stare più tranquilli. Sì, 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 per stare più tranquilli. Siamo tutti vaccinati con terza dose, importante è la sicurezza. È giusto che si portano le mascherine e le mascherine si devono portare sempre, perché è l'unica cosa in cui ci possiamo salvare. Tranquilla, sto solo a casa con mio marito e a Natale ho mio figlio con mio fratello, niente di che. Non fate assembramenti, mettetevi le mascherine. Grazie. Buon Natale. A lei, grazie. Grazie.